Tartarughe Già 200 milioni di anni fa, le tartarughe vivevano sulla terra. Quando arrivarono i dinosauri, le tartarughe fuggiranno verso il mare e divennero creature delle maree e delle correnti. Ma la terra non voleva lasciarle andare e reclamò la sua maternità. Per questo ogni tartaruga marina è costretta a tornare nuovamente sulla terra, per depositare le sue uova. Ed ogni piccolo deve dare inizio alla sua vita nell'humus della terra. Ed ogni piccolo deve dare inizio alla terra. VALUcinale Grazie a tutti La tartarughina ha impiegato tre giorni per raggiungere la superficie. Il suo carapace è ancora morbido e non è più grande del palmo della mano di un bambino. Non ha alcuna difesa, ha solo la sua volontà. Il mare è lì vicino, a 40 metri di distanza. Ma per lei, così piccola, affrontare la spiaggia è un'impresa titanica. E non è sola. Ogni anno, dall'inizio della primavera, quasi due milioni di tartarughe marine nascono sulle spiagge della Florida. Lei ha un solo pensiero. Fuggire verso il mare. La terra non è la sua casa. La terra non è la sua casa. Ha pochi minuti per mettersi in salvo. Pochi minuti per sopravvivere o morire. La terra non è la sua casa. Centinaia di piccoli vengono catturati dalla terra e dal cielo. La terra non è la sua casa. Così affronta le onde con tutta la sua forza. Molte tartarughe vengono rigettate indietro. Quasi la metà di loro non riesce a superare le prime ore di vita. Ma lei continua il suo viaggio. Con pinne grandi come ali di farfalla, si libera dalla presa di madre terra e si inoltra negli oscuri abissi marini.